Salve a tutti, oggi sono qua per portarvi la recensione di L'ultimo colpo di mamma e io, una commedia con sprezi di azione, la regia di Trish Siae, scritto da Sarah Rothschild ed è diciamo l'ennesica americanazza dei film con i soliti cliché dall'inizio alla fine che può annebbiarti la mente, che pensi che sia una cosa valida ma alla fine passa tempo, ma da una parte meglio non te lo passi proprio questo tempo, te fai altro può piacere ai ragazzini, qualcuno che ci manca qualche neurone al cervello però, diciamo, guardabile, niente di che, alla fine, che già si sa come inizia, si sa come finisce si sa che andranno tutti bene, d'accordo, si migliorerà la tua vita, tutto e la trama è questa vediamo questa mamma di questi due stronzetti è una ragazza, è un bambino un po' in carne giustamente perché se non gli metti un bambino chiatto che deve essere preso per il culo per tutti i film perché è grasso non sa da fare un marito deficiente perché ci deve essere un marito imbecilio che deve far ridere anche lui e la figlia carina, passabile, niente di che sta madre, niente, fa, diciamo, dei servizi in casa la classica casalinga americana, ecco non fa niente di chissà che diciamo che il suo passato, dice che che era, diciamo, sempre che studiava, non usciva mai stava sempre attento, ma noi già sappiamo già dalla copertina la vediamo lì scosciata ma che cazzo me lo fai a fare sta trama del cazzo Sara Rothschild che poi alla fine mi si scopre già dalla copertina fai una copertina diversa, imbecille imbecille, cretina che non sei altra che cazzo me lo dici a fare? già lo so che lei è super figa super potenza super fenomena che già lo so già dalla copertina vabbè, lasciamo aperti niente una notte viene rapita da, diciamo, da dieci scagnozzi che lei già ci lavorava con queste persone che aveva rubato anche lei però le ha smesso ha voluto uscire per farsi, diciamo, una vita più tranquilla ed è entrata, diciamo nel programma testimoni di protezione non ne vorrà sapere più però i soldi si era zambati come sappiamo niente i figli scoprono che è stata rapita lei lascia, diciamo, delle tracce per essere trovata e quindi inizia, diciamo, questo raccambolesco e imbecille viaggio di questi quattro coglioni che l'amica della figlia un cinese che si pisce addosso e prende, diciamo, le mutande speciali che sua amma rompe il cazzo perché dà un segnale tipo bip bip per svegliarti che ti stai pisciando addosso e il solito chiatuncello per chi non lo sapesse chiatuncello vuol dire ragazzino in carne grasso, ok? si dice prima che qualcuno lo sa niente inizia, diciamo, che seguono gli indizi questi enigmi che sua madre ha lasciato per riuscire, diciamo, a trovare una sua collega che, diciamo, andavano a fare dei colpi più giovani insieme e in frattempo dall'altra parte vediamo la madre che per niente viene rapita con, diciamo, con il marito deficiente e viene portato dal suo ex con cui faceva i vari colpi e rapine quindi vengono minacciate entrambi anche lui sembra che è entrato nel programma testimoni e vediamo ovviamente che c'è questo feeling diciamo queste scenette un po' carucce che c'è la gelosia del marito perché alcune si fanno delle battute quello completa l'altro ci sono queste scenette carucce dai su questo non posso dire niente diciamo non è male e vediamo la differenza tra il marito che si è preso imbecille e il suo ex che è un gran figo si questo si è un film diciamo che non è lascia diciamo il tempo che trova cioè se non ve lo vedete alla fine non è che vi fate questa grande perdita di film no però è di intrattenimento è carino per la famiglia si per la famiglia si per la famiglia perché è semplice alla fine non c'è non c'è né violenza cioè ci sono i combattimenti ma tranquilli non è che c'è splatter no no niente del genere alla fine è un film che si vuole vedere così con i nipotini niente vediamo che a fine inizia diciamo si mettono d'accordo per fare questo colpo la fotografia è abbastanza anonima sempre tutto patinato non c'è manco non c'è manco se vedono i pori di sti cristi cioè si sono fissati a fare sempre questa fotografia che non si vedono i pori cioè tutto così sono tutti truccati super truccati anche le figlie i bambini pur sono truccati sono truccati tutti qua porca puttana perché adesso è tutto perfetto gli americani sono così ti dobbiamo far vedere che tutto perfetto è tutto bello che poi non è così niente io spero è inutile spoilerare che qua che cazzo c'è da spoilerare cioè si sa tutto qua no c'è qualcosa da spoilerare una piccola cosa lo diciamo parte spoiler andiamo agli spoiler scopriamo che l'ex della nostra mamma spia lui non è mai entrato nella protezione testimoni e prende appunto fare i cazzi suoi perché quello là è stato arrestato che praticamente lavoravano per un tizio si è levato questo qua dai coglioni quindi gli appicciavano diciamo ora ma io posso di questo vado a fare io i colpi grossi e tutto il resto quindi è stato lui a mandargli queste persone in casa è stato lui a fare le minacce è stato lui diciamo a portarla diciamo lei a fare questo giochetto diciamo di lei che voleva cercare aiuto da lui ma alla fine tutto diciamo è stato manipolato ecco finisce il film che tutti quanti sono contenti tutti quanti si realizzano tutti ah cioè manco uno non si realizzano sto film te giuro che schifo mieloso alla fine la ragazza riesce a a superare il fatto di suonare in pubblico è l'università è un'università quell'altra mongoloide l'amica sua perché soltanto si è messo un mandato di merda lancia la moda 27 milioni di follower il bambino grassottello che fa? si realizza anche lui in che cosa? niente nella sua moda dei video diciamo il cinese riesce a non usare più le sue mutande speciali questo è più più questo è più plausibile questa è una grande vittoria questa è una grande vittoria il nostro pasticcere si è aperto un corso di allenamento di dita non lo so che cazzo si è aperto un corso e i suoi corsi sono sempre strapieni poi la mamma la mamma spia è diventata diciamo una che diciamo addestra le nuove recrute a diventare figa come lei e poi chi ci abbiamo? ah il nostro ex della nostra mamma spia che viene arrestato e vuole fare sempre portare alla moda di farsi vedere i suoi muscolazzi anche in carcere fine io un 4 un 5 gli possiamo dare 5 su 10 5 e mezzo no 5 e mezzo dai 5 e mezzo io spero di aver parlato troppo di avervi annoiato vedete non vedete se c'è dei figli ho detto nipote allora ci sta se no saltate si per una serata in famiglia è consigliabile io vi saluto e alla prossima recensione qui Grazie.